ciao ragazze ciao ragazzi come avete visto dal titolo mi è arrivato un super pacco da nadia dovete sapere ragazze che questo pacco mi doveva arrivare nel 2021 cioè perché era il natale che poi si stava il covid non abbiamo più potuto spedire i pacchi di regalo e quindi nadia non si ricorda nemmeno che c'era dentro io ragazze naturalmente già ho aperto ci ho messo mezz'ora perché non me l'aspettavo ho fatto flash proprio questo pacco arrivare e quindi ragazze il video che doveva andare domani che è mercoledì lo svuoto alla spesa viene spostato a sabato perché faccio andare prima questo video qua quindi vediamo dentro che già ho visto un sacco di cose infatti sembravo fantozzi per piacendermi questo pacco perché lei fa tutti sempre questi mette 40 mila cose dentro giochi sulle borse ragazzi giochi su borse allora vediamo no vabbè allora questi sono ma nonna che bello nadia guarda io li amo queste cose le tovagliette le tovagliette troppo carine ragazze non mi vedete fare tutti questi urli quindi due tovagliette queste qui no vabbè poi no vabbè no ragazze ho visto un'agenda lei lo sa che sono pazza delle agende la borsa no i vestiti no vabbè aiuto vediamo i miei vestiti ragazzi poi nadia avesse troppo bella ragazze voi non avete idea come veste no vabbè pure i colori no nadia come bello pure i colori che mi piacciono a me questi ragazzi questa mezza manica perché quello è il pacco mi doveva arrivare ci doveva arrivare un secolo fa no ragazze è figura di calliope cioè voi non avete idea guardate quanto è carina quanto è bella poi non avete idea il profumo che esce da qua dentro allora non so che profumo è ma comunque troppo bello no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè che bello non avevo capito no ma io questa ce la do a federica no nadia questa baby baby disney gliela do a federica maronna ragazze voi non avete idea il profumo maronna nadia ma che profumo è mamma mia come bello questo ce la do a fedina a federica maronna i colori miei voi perché lei lo sa che sono questi colori qua che mi piacciono almeno questo è troppo bello maronna ragazze intimissimi cioè sono tutti mamma mia ragazze quanto è bello questo e poi io amo molto le cose che sono aperte ma come devo fare ma c'è mamma mia pure i vestiti vestiti non me l'ha aspettato no vabbè no perché ragazze poi i vestiti non li compro proprio soprattutto io esco poco quindi non è ma no nadia che belli artigli cioè tutte marche mamma mia quanto è bello questo grazie pure la mia taglia sono no nadia sei pazza no avete capito ragazzi non avevo capito c'è sotto tiene questo oppure ti puoi mettere pure solo questo come devo fare voglio svenire ragazze fa una è incredibile questa ragazza io non lo so guarda allora questo si può mettere sotto che quello si può mettere anche separato però il completo no proprio la taglia mi sento male mamma mia mamma mia no voglio svenire ma voi non avete idea che c'è qua dentro ma faccio il guardarobba poi tutte cose che mi vedete indossate zuichi sm ma proprio ragazze voi non avete idea ve lo giuro forse non lo so mi vede vestita perché io non a me piacciono proprio questa tipologia di maglioncini qua quelli aperti pure mi piacciono tantissimo e poi sono proprio i colori che uso io no vabbè voglio svenire ma che devo fare con nadia mamma mia ha visto un cuore ragazza mi ripagliavo il babbo natale no vabbè da dove parto aspettate facciamo prima con i panni madonna madonna pur un giubbino no vabbè pazza è pazza ma allora tutti in cose marcate bruno banami è impazzita no ragazza è impazzita no ragazza è un cappottino ragazze come pesa cioè si può mettere tranquillamente no è pazza io come devo fare mamma mia quanto è bello mo monica se ne accorge subito mia sorella come con questi vestiti maronna è pazza ma c'è me capito questo cappottino ja come devo fare ragazze ditemi voi come devo fare con nadia no ragazza questo è troppo bello mi ha detto salvato no ragazza questo è troppo bello questo cappottino no ma come devo fare ma che viene davide ci devo far tenere tutto ma allora e pa come devo fare cioè basta cioè ma io non lo so mi ribassano pure le tovagliette cioè mi ha fatto un poco di guardaroba ragazzi veramente io mi dovevo comprare qualcosa no vabbè voglio svenire facciamo una pausa ragazze perché mi devo riprendere mamma mia come devo fare ogni volta che mi arriva un pacco di nadia cioè ragazzi è una cosa esagerata no vabbè voi dovete dire questo coso aspetta ma non mi guardate qua no vabbè ma mi serviva nadia per mettere gli spicciolini voglio svenire mi sento male mi sento male mi sento male ma da qua no vabbè c'è nuvo quando le parole ragazze nostica quanto è bello no va bene ragazze sono troppo felice Maronna, mi stanno uscendo le borse Questa era la borsa Che lei mi aveva fatto vedere No, va bene Ragazza, aspettate Mamma mia Sono troppo emozionata Io lo sapevo Mamma mia, comodora Comunque questa non mi ricordo Ragazze È la copia di una borsa Di una borsa comunque Ragazza, la domanda è bella Qua c'ha la cerniera Ma quanto è carino, quanto è bella Pure questa, Nadia, mi metto sabato Che scocano da Monica Ragazze, vi faccio l'outfit Capottino Nadia Borsetta Nadia Mamma mia Mi sento male C'ha anche la cerniera È bellissima No, voglio svenire Come devo fa? Ja, come devo fa? Che cosa? Ma che bello c'ha No, vabbè C'ha anche questo qui Ragazze Vedete C'ha un portavicino Che puoi mettere dentro Magari le chiavi Sbito pigli la chiave Ragazze No, vabbè Non ce la faccio Non ce la faccio Ma no, ragazze Sanno in sacca ancora di cose Sanno tante cose Facciamo molto lentamente Perché se no C'ho la adrenalina a mille Tengo proprio la adrenalina No No, vabbè E che cos'è? No, madonna mia Voglio svenire No, perché Era strano Ragazze Che non ci stava No, vabbè Voglio svenire Guardate che belli No, Nadia No, vabbè Guardate qua Che bello Voi lo sapete Io che faccio Le creazioni Quando vedo Queste cose così No, Nadia Mi sa Maronna mia Guarda questo Guarda questo Ragazze Come sono belli Ma poi lei sa Proprio Le cose che mi piacciono a me Perché io potengo Il braccio microscopico Questi sono bracciali Che per esempio Ragazzi Io mi metto Perché non ci vuole niente E io ho il braccio Vedete Microscopico A me non piacciono I braccialetti Quelli che creo io Perché io ho il polso Troppo piccolo Allora Eh Ma escono le creme Costose Bioderma Campioncino Eh La cosa di Mary Popping Qua Eh La rosina Io non lo so nemmeno dire La Roche posée Non lo so se l'ho detto bene Ragazze Ah che cos'è Anti E ungella Allora Quante cose Poi ce n'è un altro Sempre Allora Questo deve essere Anti Vabbè ragazzi Poi vedo che cosa Deve essere qualche Gella Biotecine Mi sembra Una cosa Una cosa Come si dice Sempre Sempre purificante Ah mi ha messo Tutti questi Campioncini Di questa linea Qua Della Bioderma No vabbè Vado al manicomio Con queste cose Ragazzi Bello Sono tutti Campioncini No mi mettevo paura Che si stava Ho detto Ma sta registrando Ci sono Questi altri Due Ma no Bellissima Sono troppo felice No Ah Qua ci sono Vabbè Queste pietre Sono pietre vere Ah Queste sono pietre vere Perché io me ne accorgo subito Madonna Come sono belli Ragazze Queste sono pietre vere Queste sono pietre di fiume Devono essere Vediamo Vedete La pietra È fredda Quindi questa Ragazze Sono degli orecchini Con la pietra di fiume Che mi metterò Sicuramente Farò un bell'outfit Con le cose Che mi ha regalato Nadia E lo inserisco Dentro a un vlog Mamma mia Quanto sono belle No ragazzi Guardate questi orecchini Proprio il mio genere Tutti gli orecchini Che sto preparando A Roberta Non so se avete visto E sentito Il video Che lei mi ha venduto Tutte le cose Che io gli avevo dato Tiene soltanto altre tre cose Ma mi sta vendendo Proprio tutto E questi Mamma mia Quanto sono belli Queste sono gocce di fiume Perle di fiume Questo invece E questa è bisutteria Questo è caduto il cosmo Allora ragazze Continuiamo Quindi dopo tutti questi campioncini Mamma mia Mamma mia Qua dentro Ci sta Mamma mia Ragazze Stanno Un sacco Di campioncini Vedete Alchemilla Perché lei Usa molto Ci piacciono un sacco I prodotti Biologici Salipilla Io non le so nemmeno dire Si Seido Quindi qua sono tutti i campioncini Ragazzi Un sacco di campioncini Poi No vabbè Questa qua per struccarti No vabbè Eh niente ragazzi Non finisce più Un'altra marrone Sto a posto Un'altra marrone No vabbè No vabbè Questa ce la portano No questa Nadia Questa ce la No Nadia Questa ce la devo portare a Federica Questa ci viene Federica Quando vede questa borsetta Io no Ci viene Federica Federica ci viene Quando vede questa borsetta È troppo carina No vabbè È troppo carina Questa cosa Qua per esempio Ci metti gli spicciolini Marona Quanto è bella No vabbè Voglio svenire Ragazze Sefora Mamma mia Quanto è bella Ragazze È uno zaino È uno zainetto Io non so che dire Guardate che Non c'è addirittura Ragazze Ragazze Tanto per farvelo vedere Mi fa morire Perché si compra la roba Sefora Con il cartellino vicino Cioè No ragazze È troppo bella Ma vi faccio vedere Proprio come mi vesto sabato Perché qua ci mette così Nella Nadia Metto tutta la spesa Perché io tengo quella borsa orrenda Quando esco No vabbè È la mia felicità È il mio make up No vabbè Come devo fare Con Nadia Questa deve essere Questa marca Vabbè La conoscete tutti quanti Non ti voglio accostare È tipo Secondo me La venna La rocette Questa deve essere Un'acqua Per il viso No vabbè Io come devo fare Io come devo fare Ancora non finisce È lo scatolo di Mary Buffett Gli occhiali No vabbè No vabbè Ma ragazzi Io mi piglio la montatura Mi piglio la montatura Che non ci vedo No vabbè ragazzi È troppo bella Questa montatura Ma chi sa se si può Chi sa se si possono mettere I vetri Normali Ma poi che non lo so Io come sto Vediamo Non mi faccio vedere No vabbè Che belli No vabbè ragazzi Sono troppo belli No vabbè Vabbè ragazzi Io non so che dire Io non so che dire Mi riposo un poco Perché ci sono le altre cose Devo prendere un poco di fiato No mamma mia Io sto scioccata Che quello che mi ha Ma ancora che sta andando Ho visto un cuore così rosso Non lo so ragazzi Che cos'è una lambada Madonna Questi sono troppo belli Me li metto pure Vi ho detto Vi faccio l'outfit Nel video di sabato Giro il vlog Siete pronte? Siete pronte? Non è come Voglio sì Ragazzi è una lampada Io l'adoro Come devo fare? Come devo fare? Ta 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 No vabbè No ragazzi Con questo faremo un video ASMR Anche se ragazze Vedete dove vi arriva la notifica Vi dico solo questo Guardate la notifica Dove vedete la notifica degli ASMR La vuol dire che ho fatto il video Allora ragazze È troppo bello Quindi ve lo faccio vedere acceso voi Anche nel video normale Lo accendiamo No vabbè Io voglio No io come devo Yeah Nadia però Mi fai fare un'ora di video Cioè questo video Dura mezz'ora E io non lo taglio Perché tutte le emozioni Si devono sentire No ragazze Ma quanto è bello Ma quanto è bello Questo cuore Mi sento Eh mamma mia Non ce la faccio più La cosa che stanno qua Dì Un orologio Allora Sto scioccheggiata Ah altri vestiti Un altro vestito qua Che cos'è Una camicetta No vabbè Ma poi non avete idea Nadia fammi sapere Che profumo è Perché Non lo so Forse è il No ragazze Sembra proprio un profumo Mamma mia Guardate qua ragazze Questa è seta Cioè Rinascimento No Vabbè Se va a dire rinascimento Io già so quanto costa questa Cioè vabbè Come devo fare Nadia ma come devo fare Se ne voglio svenire Grazie Maronna mia Nadia Soprattutto Cioè Maroni Vestiti Perché ragazze Una delle cose Che io non comprerei mai Cioè Ne compro proprio Li compro proprio Quando mi serve Infatti a me Lo vedete Che me li dà mia sorella Monica I vestiti Poi Foscetta No vabbè Questa l'amo L'amo follemente No vabbè Ragazzi È l'ultima Che vi faccio vedere Era impossibile Che Cioè Tu qua dentro Ti credi Che c'è La poscetta Poi vai a aprire È troppo È rinascimento Pure questo Ai 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 No vabbè Questa è stupenda No ragazzi Non mi dite che ci va Il cellulare Vediamo No ma anche io qua ragazze Sapete che metto Qui Ci vado a mettere Ci metto Tutti Gli spizzolini Perché a me Mi serviva Uno per Mettere tutti Gli spizzolini No Poi per esempio Che ne so ragazze Devo andare di fronte Veloce Non mi porto Tutta quella La borsetta Poi questa Sarà la mia borsetta Ora Perché ora la cambio Perché se no Tengo sempre Quella di Monica Della prima classe Ragazze Ma no ragazze Sono troppo felice Questa poi qua Mi metto Ragazze Mi organizzo Tutti i cusciti Tutte queste cose Abbiamo finito il pacco E che volevi più Anna Quello solo il cappotto Non ho idea Quanto costa Come devo fare Ragazze Con Nadia Allora Poi No Giustamente Lei doveva completare Con qualche altra cosa Ancora che mi piace a me L'agenda Un'agenda Non le voglio svenire Questa ragazza Taglia Allora Naturalmente La data ragazze Del 2022 Perché questo pacco A me doveva arrivare Il 2021 Però non mi interessa Perché Vedete Giornaliera A me Io la uso Perché la userò sicuro Ragazze Voi lo sapete Mi metto Mi vado a scrivere Tutti i video Che devo fare Oppure scrivo La userò per qualcosa Ragazze Tutte le agende Che tengo io Poi fatemi sapere Se volete vedere Il video Di tutte le agende Che io tengo Ragazze E quindi L'agendina Questa qui È troppo bella Figurati se io Non uso questa agenda Che me ne frega Che sta scritto 2022 Tanto io La userò come Quaderno È troppo carina Quindi Nadia Io non so Quante volte Grazie ti devo dire Mille volte Grazie Ti voglio bene Anche perché Ragazze Io con questa ragazza Mi sento Pure poche volte Non mi sento Sempre È come se Anche senza Il sentirci Siamo sempre legate Ragazze Non ve lo so spiegare Non ve lo so spiegare Anche se io Non sento Nadia Per un mese Oppure non la sento Per tempo Non ci sentiamo Tutti i giorni Non Ci sentiamo Magari ogni dieci giorni Cioè È come se Noi Ci sentiamo 24 ore Su 24 Sembra tutti i giorni È una cosa Incredibile Fra me e lei Lei lo sa Non lo so Se vuoi Lei mi commenta Sempre Tutti i video Lei sta in Svizzera Ma non Nadia Voglio venire Eurelio Lei sta in Svizzera E quindi Ma non Troppo bello Ragazze Me ne fuggirei Subito Nadia Arrivo Quindi ragazze Nadia Grazie Per questo Super spacchettamento Sarà sicuramente Ragazze Io taglierò Pochissimo Perché Vedrete Tutte le emozioni Non lo Non lo Forse Non lo Lo devo evitare Perché lo devo attaccare Perché Sarà venuto Un quarto d'ora E un quarto d'ora Lunghissimo Niente ragazze State sintonizzati Iscrivetevi al canale E per quanto riguarda Gli ASMR Ragazze Attivate la campanella Anche Dell'altro canale Mi raccomando Perché dove vedete La notifica Lì ho fatto il video Quindi Ragazze Vi mando un bacio E Al prossimo video Scrivetevi al canale